Nella seconda stagione di Endless Love, la vita di Nihan è un vortice di emozioni contrastanti e situazioni limite. La tranquillità conquistata a Londra si infrange brutalmente quando Emir, in un audace colpo di scena, rapisce la loro figlia Deniz. Questo gesto estremo di Emir non è solo un atto di vendetta, ma un chiaro messaggio a Nihan. La sua libertà è ancora una volta un'illusione. Il rapimento di Deniz è un fulcro attorno al quale ruotano tensione e dramma, poiché Emir usseà la bambina come leva per manipolare Nihan, costringendola a tornare a Istanbul sotto la sua influenza. Il ritorno a Istanbul segna per Nihan l'inizio di una disperata lotta per riappropriarsi della propria vita e salvare sua figlia. Ogni giorno è un'agonia, con Nihan costantemente sotto la minaccia di Emir che le impedisce di rivelare a Kemal che lui è il vero padre di Deniz. Emir, con la sua abilità manipolativa, orchestra una serie di eventi che tengono Nihan e Deniz sotto il suo controllo, spingendo Nihan ai limiti della sua resistenza psicologica e emotiva. La situazione si complica ulteriormente con l'entrata in scena di nuovi personaggi che si intrecciano nelle dinamiche già complesse tra Emir, Nihan e Kemal. Alcuni di questi personaggi portano nuove alleanze e speranze per Nihan, mentre altri si rivelano ostacoli aggiuntivi o persino minacce nascoste. Nel frattempo, Kemal, dopo aver trascorso un periodo in carcere da cui esce completamente scagionato, si trova di fronte alla devastante realtà del rapimento di Deniz e alla manipolazione continua di Emir verso Nihan. Kemal, pur essendo ora libero, è immerso in una battaglia sia legale che personale per disfarsi delle false accuse e riprendere il controllo della sua vita. La sua priorità diventa salvare Nihan e sua figlia, portando alla luce la verità sulla paternità di Deniz. La lotta di Kemal è resa ancora più difficile dal fatto che Emir, con la sua vasta influenza e risorse, fa di tutto per ostacolare ogni suo passo. Man mano che la stagione procede, gli spettatori sono testimoni di un crescendo di tensione e suspense. Ogni episodio svela nuovi segreti e intrecci, costruendo un intricato puzzle di lealtà, tradimenti e sacrifici. La narrazione si intensifica esplorando temi come il potere, il controllo, la resilienza e il sacrificio, mostrando come i personaggi principali siano costretti a fare scelte difficili che definiranno il loro futuro. Mentre la stagione di Endless Love si avvicina al suo apice, la tensione si intensifica visibilmente. Nihan, determinata a sfuggire al controllo oppressivo di Emir, si trova ad affrontare una delle sfide più ardue e rischiose della sua vita. Questo momento decisivo rappresenta non solo una lotta per la libertà personale, ma anche una battaglia per la sicurezza e il futuro della sua piccola Deniz. La tensione sale a livelli palpabili man mano che Nihan prepara il suo confronto con Emir, un uomo che ha dimostrato di non avere scrupoli nel manipolare e controllare la vita degli altri per i suoi fini. Il confronto tra Nihan e Demir si carica di una drammaticità epica, dove ogni parola e ogni azione possono avere ripercussioni immense. Nihan, consapevole dei rischi, si muove con una miscela di paura e determinazione, sapendo che questo potrebbe essere l'unico modo per riconquistare una vita normale per lei e sua figlia. I telespettatori assistono a uno scontro carico di emozioni, dove i temi dell'amore materno, della lotta per la giustizia e del desiderio di redenzione si intrecciano creando una trama densa e avvincente. Parallelamente alla storia principale, altri personaggi della serie affrontano le proprie battaglie e rivelazioni. Le alleanze vengono messe alla prova e i segreti lungamente custoditi emergono, aggiungendo ulteriori strati di complessità alla narrazione. La comunità che circonda i protagonisti si trova divisa tra chi supporta Nihan nella sua lotta e chi, per paura o convenienza, sceglie di stare dalla parte di Emir. Mentre la stagione procede verso il suo climax, i telespettatori sono testimoni di una serie di eventi drammatici che modificano irreversibilmente le dinamiche esistenti. Il confronto finale tra Nihan ed Emir diventa uno scontro non solo tra due ex amanti, ma tra due visioni del mondo diametralmente opposte. Nel frattempo Kemal, dopo essere stato dichiarato innocente e liberato dall'accusa di tentato omicidio nei confronti di Emir, esce dal carcere. All'uscita, Kemal trova ad attenderlo non solo i suoi familiari e amici, ma anche Nihan, che è dilaniata dalla paura di perdere Deniz per sempre se dovesse svelare la verità su Kemal. In un momento cruciale, proprio mentre sta per riunirsi con Kemal, Nihan riceve una chiamata da Emir che la minaccia ulteriormente, impedendole di parlare. La situazione si complica ulteriormente quando Nihan, in preda alla disperazione, decide di agire in modo drastico e incendia la casa dove viveva con Emir, cercando di distruggere ogni legame con il suo passato doloroso e controllato da Emir. Questo atto estremo è un chiaro segnale della sua crescente instabilità emotiva causata dalla pressione e dal terrore inflitti da Emir. La trama si infittisce quando Nihan decide di agire drasticamente, dando fuoco alla casa condivisa con Emir, in un disperato tentativo di liberarsi del suo passato oppressivo e delle sue grinfie manipolative. Questo gesto estremo segna un punto di non ritorno per Nihan che si spinge oltre ogni limite per proteggere sua figlia e la propria autonomia. La casa, un tempo simbolo del loro matrimonio forzato e della vita controllata da Emir, diventa cenere, simbolizzando il desiderio di Nihan di rinascere dalle proprie ceneri come una fenice. Nel frattempo, Kemal, dopo essere stato scaggionato dalle accuse e liberato dal carcere, si trova di fronte a un bivio. La sua riunione con Nihan all'uscita del carcere è carica di emozione e complessità. Mentre i suoi genitori e amici lo incoraggiano a distanziarsi da Nihan per proteggere la sua nuova vita, il cuore di Kemal è ancora profondamente legato a lei. Questo conflitto interiore è aggravato dalla minaccia di Emir, che uessa a Deniz come pedina nel suo gioco crudele, promettendo a Nihan che rivelerà la verità a Kemal solo se lei rimarrà sottomessa a lui. La situazione si complica ulteriormente con la comparsa di nuovi personaggi che si intrecciano nel dramma. Vecchi amici e nuovi alleati entrano in scena, ognuno con i propri segreti e agende, rendendo il puzzle ancora più intricato. Mentre Kemal e Nihan cercano di navigare in queste acque turbolente, si trovano costantemente costretti a valutare chi possono fidarsi. La stagione si conclude con una serie di colpi di scena che lasciano gli spettatori con il fiato sospeso. La lotta per la verità, la giustizia e la salvezza personale diventa sempre più intensa, con ogni episodio che si costruisce sul precedente in un crescendo di suspense. Ogni rivelazione porta nuove sfide e decisioni difficili per Kemal e Nihan, i quali devono confrontarsi con la loro stessa moralità, i loro desideri e le conseguenze delle loro azioni. In definitiva, Endless Love promette di portare G e gli spettatori attraverso un viaggio emotivo e ricco di tensione, dove il confine tra amore e ossessione, verità e inganno, sacrificio e sopravvivenza diventa sempre più sfumato. La serie non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sul costo della libertà personale in un mondo dove i segreti hanno il potere di distruggere o salvare vite. Cosa pensi di questo soap? Ti sta piacendo? Iscriviti al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Endless Love?